Bene ragazzi, qui Dido ci siamo andati con Octodad, ovvero il nostro amorevole polpo e smoking Ok, allora, non mi ricordo cosa c'era da fare Dunque... Dio, è un diario vero Ecco, prendere la banana dalla cucina Ok, intanto facciamo questo, che mi sembra facile Il vestito dalla... ok, dal soggiorno tipo Va bene Andiamo, amico mio Ce lo possiamo fare, intanto capiamo dov'è la cucina Credo sia quella Andiamo Ti prego impegnati, no Che fatica a entrare qua dentro Octodad Maledetto polpo di merda Oh Siamo entrati Ma che versi fa? Vabbè basta, basta, non voglio neanche più leggere Una donna umana Beh, che schif... Deve, fra l'altro, provocare un piacere a questo uomo qua, con i suoi tentacoli alle donne Vabbè, comunque... Press escape... Vabbè, la banana... Ah no, è vero, cambiano Ogni volta che entriamo in stanza Clear off the red content Vabbè Mettere i piatti nel lavandino Ehm... Pulire il frigo e... No, anche sguazzare per terra, pulire per terra No, farlo fare quella bambina che sta sul letto a leggere le storie Kamasutra, anzi Polpo, puoi facilmente superarlo, eh Bravo Are you ready for our romantic evening? Romantic evening? Io ci sono sempre per il romantic evening Vieni qua, vieni qua Madonna, spacco tutto Vieni qua, tieni Tieni la mia... Oh mio Dio Ti sto abbracciando, cara Tieni il mio tentacolo e prova piacere con esso Va bene, basta, ok Sta diventando un porno sta cosa Oh Ah Quella Sono scarpe Prendiamole Prendi Sì No Alzalo Bra Eh, eh Prendi No, cos'hai raccoltola? Un libro? Ma... Oh, mollalo Alzala il braccio Ti prego Ok Ok E ora che ce le ho? No E ora che ce le ho Che cazzo ci faccio con queste scarpe? Va Vabbè Dopo Ci penserò Smenite di stare in quella posa strafiga E andiamo a prendere Ecco Puliamo Ok Andiamo Eh, come cazzo si fa adesso però? Possiamo solo che Possiamo solo che Camminare? Ah, ok Qua lo sporco Madonna Da quanti anni è che non pulite qua dentro? Che schifo Manca Oh 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 mio Dio Breakdance con Boh Cosa fa fare qua? Allora Gira Non riesco A metterlo Oh Pulito Ok Gira Ok Ok Uh L'ho pulito Davvero Ora spazio E puliamola Pulisci Basta Ok Bravissimo No Allora Se ce la fai dopo ti regalo una polpa di quelle che non vedi neanche sui siti porno Bravo Bravo No È lì È cazzo Porca la tua puttana È lì No È lì Sì Vai avanti È lì Sì Oh Oh mio Dio che fatica Oh mio Dio che fatica Boh 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 Ok Come sei messo? Andiamo a mettere i piatti nel lavandino adesso Or dunque Dove Dove sono i piatti? Boh io ci metto il tentativo Boh io ci metto questo dentro Si vabbè ma la telecamera di questo D'accordo che è stato sviluppato in una università mi sembra sto gioco ma la telecamera è qualcosa di ingestibile Ah sono quelli i piatti ok ma sono ciotole non sono piatti La mia gatta mangia i piatti migliori ok Andiamo a prenderlo Non la tazza Dobbiamo pulire i piatti Ah no Forse anche la tazza Uno Best dead ever oh mio Dio Mia figlia mi ama Ok Dobbiamo riprendere la tazza che si respawna ovvio In tutte le case c'è una tazza che si respawna Smettere di essere bloccato nei bag Ma perché lo devi tirare per terra? Ok Bravo Molalo Ancora quella Et voilà Basta ho finito Ancora sta roba Ma no Stavano a me Ah è il vero i bicchieri Scusate Non li avevo manco visti In verità Mette a dirompere tutto Guarda che Oh Chiede il divorzio a tua moglie Poi non so quante chance hai di trovare un'altra moglie umana Amico Pulisci i piatti O non bevi di più una Vagina umana eh Io Te lo dico come consiglio Ok I bambini sono così piccoli Grazie Bravo Ok Ora apriamo il frigo E vediamo di prendere Lascia stare questo Vediamo di prendere la banana Ok Wow Ah no è vero Dobbiamo pulirlo È vero Devo buttare fuori tutto Puliamo il frigo Buttando fuori tutto Non mi sembra un modo molto furbo Di pulire il frigo No Ok ci Ci dobbiamo Avvicinare molto Mi sa Ok Così poi può andare Se magari la smette di Oh Fuori Fuori anche la pizza Cos'è sta roba fuori Oh Vieni qua Vieni La telecamera Madonna Com'è fatta male Vieni qui Madonna È ingiocabile ormai Qua Quando ci sono tanti oggetti a schermo È davvero qualcosa di incredibile Ok Via Mollala Ok Cos'è un vibratore Perché lo tiene in frigo Perché ce l'ha poi C'è un marito con i tentacoli Oh Oh Bottiglia Vieni qui Cos'è acqua quella Va bene Ok Questo Raccoglilo Bravissimo Abbiamo quasi finito Sali con la zampina Qua Abbiamo Ora ce l'abbiamo Sushi C'è del sushi lì Quello è tipo Pesce a spada Boh No No Che pesce a spada Sali con sta maledetta manina Vea Vea Bravo Ora Oddio Oddio come hai fatto Vabbè Mi basta che l'hai preso Sta porta qua Si chiude da sola Come nei migliori frighi Prendi quello Prendilo Da sotto Sì Può fare Grandissimo sto polpo Alza No Scusate ragazzi Ma Non è colpa mia Se la telecamera È fatta così Ok Ultima cosa Sì Ora Ora Il friggio è semplice E' Che fatica Che fatica Che fatica Che fatica Cosa c'è Clear off Del rei conto Ma Il contatore rossa è ria red Red Conte ah, ho capito, forse ripulisci la f... ok, via, tutto, questo in primis, questo via, space bits, via, morsi, space bits, morsi spaziali, carino come noi, via, e anche i libri, perché ci sono dei libri in cucina, che spazio ho fatto, mio dio, inquietante, questo via, le scarpe, perché ci sono delle scarpe in cucina, che casa sporca che hai polpo, prendi lì, bravo, ok, ora, quello lì, dai, dai, ci stai, sono fiero di te, ci manca solo una cosa, no, la scatola gigante ci manca, ovviamente sempre ci sono le scatole gigante, cosa manca ancora, aspettate, lo allontano ancora un po', questo, e il vaso, che ovviamente è in cucina qua, in mezzo ai cibi, e ha le scarpe, abbiamo scoperto che conter, no, eh, conto, contatore, no, grab the banana, perché, te la sei guadagnata, guarda, una vittoria incredibile, è la banana, presa, oddio, lei è rimasta tipo così, la banana, ok, basta, fattoci dei capelli assurdi, oggi, a porta aperta, ritorna nella bla bla bla, dai, smettila di usare la mano, oddio, cosa stai facendo, che visione orribile, ok, no, bravo, no, il piede, non puoi farlo passare attraverso, ok, sei, un'altra stanza è andata, 9 minuti, posso andare a fare qualche altra missione di un'altra stanza, quello è fatto, ah, carina, c'è la spunta, questa, questa dobbiamo ancora farla, ah, è vero, provate che devo aprirla con le mani, no, no, invece no, allora dov'è che devo andare, ah, là, oh, quello cos'è, il bagno, chissà quante cose ci potremmo fare in bagno noi con un polpo in smoking, andiamo un po' ora alle emissioni, ah, 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 sei qua papà, no, ecco te lì, papà, blablabla, perché tieni i miei vestiti in nostalgia, ma che famiglia di merda che ha sto colpo, ah, 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 sei qua papà, no, ecco te lì, papà, blablabla, perché scivola un Michael Jackson da picco, brandi i miei vestiti, knockdown, eh, allora, devo buttare giù la torre di blocchi, proprio da bastardi, fare gol, completare la corsa con la bandiera, e usare la chiave di Timmy per sbloccare l'orologio, in quanto dentro c'è da fare, ok, andiamo, intanto abbattiamo sta merda, ah, sei, guarda che cattivo, ah, fa un voi! no, di la mia famiglia, sto polpo qua, odia, odio la sua famiglia e i massimi livelli, ok, ora devo fare gol, brutto di essere in mondo, guarda che gol ti faccio, oh! Gol Incredibile Ok No Sarà una cosa argo a fare gol No col divano Eppà Avanti Un brivido che Oddio gol Oddio 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 Che cazzo No 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 Lo stiamo facendo al contrario amico Oh mio dio che trick che t'ho fatto Brutto bambino di merda Guarda tuo padre come è bravo a giocare a calcio Oddio sto volando oddio Ok Mani E Boom Oddio sì 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 Più là più là Vabbè ora intanto arriva in qua Io do una bella spinta Tira la Sarà impossibile fare gol ragazzi Aspettate che non si vede più un cazzo Oh mio dio che tiro Maledetto ma le sta parando tutte No Ho fatto il respawn Ok Passa E' bravissima a parare Perché si alza sempre sta affare Oh mio dio che gol E' un'esporto legend E' un'esporto legend Oh mio dio Addirittura E ora andiamo a fare questo Cos'è sta roba? Una gara? Cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma dove devo andare? Che devo fare? Oh mio dio Cosa devo fare? Ma se non mi dite niente Riccederci Il ritratto di famiglia E' lì E' lì E' lì Fatto Ok ora E ora che devo fare? L'ho fatto Ah va Dietro il bar Dietro il bar Cazzo Non vanno più i tasti Ok Sto facendo una fatica Per farlo andare avanti Ok Passa attraverso sta roba Dietro il bar Si Fatto Cosa stai facendo? Guardalo Ah si il bar è fico Ok fatto Dietro lo start Ma che palle Passa di lì Passa di lì Passa di lì Donna Qua dietro? Ma non è questo lo start Non è questo No 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 Ah è scaduto il tempo ragazzi Eh è scaduto tutto il tempo E' impossibile muoverlo Cos'è sta roba? Octopus Sushi La cena è servita Mi hanno mangiato Solo perché ho perso Ma cosa? Continua Non è start Che cazzo devo fare? Non posso aspettare per il sport Johnson e il football Ma così Nando Ora mi devo fare tutto Ma che cazzo Passata Vabbè Ci vediamo nella prossima parte ragazzi Spero che Octodead vi Vi continua a piacere E niente Quindi come se vi lasciate Lasciate anche un commento Dovete lasciate un commento Dovete lasciate un commento Se vi lasciate un commento Se vi lasciate un commento Bella ragazzi Ciao